Mancanza di materiale per il fabbisogno dei diabetici nei distretti sanitari e quando torna a denunciare l'associazione Pelinia Diabetici rappresenterà da portavoce Salvatore del Boccio che chiede l'UMI e gli organi preposti sul famoso accordo quadro mai concluso. Un problema che balza spesso alle crone che l'associazione non intende tollerare ancora. Vogliamo sapere che fine ha fatto l'accordo quadro mai concluso causa di molti disagi, interviene del Boccio che torna a bomba sull'argomento. Nelle scorse settimane l'associazione aveva presentato l'elenco delle criticità sulla sanità quella che si fa dentro e fuori l'ospedale che riguardano proprio i diabetici dalle commissioni per il rinnovo delle patenti speciali con gli utenti che devono comunque recarsi all'Aquila con un aggravio di costi e di disagi al contratto a tempo del erminato di uno dei due medici dei servizi di diabetologia dell'ospedale di Sulmona l'associazione ha chiesto di regolarizzare la posizione come pur è stata avanzata la proposta di creare un team tra diabetologia oculistica, cardiologia, chirurgia del piede diabetico pediatria ed altre branche della medicina